48 ore a voi quattro sono state concesse 48 ore di libertà fate un solo passo falso e da qui dentro non uscite più insomma solo 48 ore di permesso da rotato come mi vede sono qui per sonia ciao tu non sei sonia tutto il tempo da te resta ma che la facevate diventa una stalla tua madre tornerà stasera intanto ti faccio preparare qualcosa mi basta una dozza per levarmi questa pozza di galera ma tu lo sai che stai a cercare di fregare la piazza a via e basta ancora che me possono fare porto il nome tuo non me fanno niente non dovevi mettere la mia donna a fare la puttana che cazzo sti fa ridammela non ti preoccupare vedrai che una soluzione la troviamo in galera non ci torni ne capito dopo domani siamo appiati tutti i soldi ti diamo a te angeli se non avete capito io la dentro non ci torno tu torni a prigione perché il tempo di stronzata è finito ma che cazzo ne sai come si sta vivendo mio figlio ha fatto una stronzata ancora il fatto è che la stronzata l'ha fatta da me tu lo sai dove è mia moglie io risolvo sta cosa non ti credo io la dentro non ci torno se mi è stato felice con qualcuno stavolta c'è becca non c'è becca stavolta c'è becca voglio vedere se sei un uomo vero forza spara stai stai